Un grande inizio di campionato per te, hai eguagliato il record di gol dello scorso anno, è già tanto? Ah sì sì, sicuramente. Niente, sono contento di questo gol soprattutto perché ho portato a casa una grandissima vittoria su un campo veramente difficile, abbiamo sofferto fino alla fine, siamo stati bravi lì a essere compatti tutti insieme e abbiamo portato a casa questa grandissima vittoria. Ora siamo tutti contenti, dobbiamo continuare così, lavorare con grandissima umiltà come dico sempre e andare avanti. Ce lo racconti un po' questo gol, c'è stata l'imbucata da parte di Castanossa e poi hai fatto tutto tu. Sì sì, io quanto vedo che posso bucare, quando posso andare vado subito, infatti è stato bravo lui a guardarmi, a darmi quella grandissima palla, io non dovevo fare altro che metterla in rete, ci sono riuscito e sono super contento. Peccato per quel gol fallito invece nel primo tempo tutto solo davanti a Perina, cosa è successo? No, io volevo stopparla e piazzarla, poi quando ho stoppato la palla l'ho stoppata un pochettino male, mi si è nebbiato un po' gli occhi e quindi ho calciato malissimo, però sono stato bravo comunque a rimanere in partita, concentrato e alla fine è arrivato questo grandissimo gol che ha portato a casa questa grandissima vittoria. Cristiano, diciamo così, non siete stati molto brillanti sotto il profilo della manovra e del gioco, avete anche subito anche per lunghi tratti la pressione del Cosenza che doveva recuperare, però siete stati ordinati e anche concreti direi. Non è che non siamo stati brillanti, secondo me ci è mancato forse l'ultimo passaggio, quello decisivo per andare a fare gol, però come hai detto tu siamo stati bravi a soffrire, perché comunque venire qui a giocare non è semplice. Siamo stati bravi ad essere compatti tutti insieme e alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria, perché alla fine se giochi, non dico sempre così, però quando vieni su questi cambi qua e giochi così, compatto, poi alla fine non dico che vinci, però ti porti a casa un buon risultato. Oggi ci siamo riusciti. Cristiano, è quasi scontato sottolinearlo, questi tre punti sono tutti per il vostro compagno di squadra Tuminello che ha avuto questo grave infortunio, che cosa avete detto negli spogliatoi, che cosa sapete? No, spero che non sia nulla di grave, ovvio ha dolore il ragazzo, però ora farà una risonanza e vedremo cosa avrà. La dedica per lui? Beh, sicuramente a lui e va tutta la squadra perché ce lo siamo meritati, questo sicuramente. Senti, il modo migliore per presentarsi è questo che sulla carta è un big match guardando la classifica contro Lentella, no? Tre punti, però c'è Lentella dall'altra parte. Eh sì, ora c'è un altro big match perché comunque giochiamo con una squadra che è una nuopromosa che sta dimostrando il suo valore. Ha fatto già a punteggio pieno, quindi dobbiamo affrontarla con la giusta mentalità, come abbiamo fatto oggi, ed essere magari più efficaci, magari quando arriviamo lì negli 11 metri, quando sottoporta. Cristiano, un pensiero anche per questi tifosi, questi 100 tifosi arrivati da Pescara, che vi hanno incoraggiati, che hanno festeggiato con voi questa vittoria molto sofferta, ma importantissima? Beh, sicuramente, la dedico va anche a loro perché comunque è una tifosità calorosa che ci segue dappertutto, quindi questa vittoria va anche a loro, è merito anche loro. Obiettivo personale, quanti gol, doppia cifra? Ma io non faccio né promesse, io voglio continuare soltanto così, partita per partita, crescere, lavorare ogni giorno, poi vedremo dove posso arrivare.